Quali sono i segni del cancro alla gola nelle donne? Gli uomini hanno una maggiore probabilità di sviluppare il cancro alla gola rispetto alle donne, ma è anche saggio per le donne conoscere i sintomi comuni della malattia, in modo che possano essere diagnosticati e trattati precocemente. Uno dei segni più comuni di cancro alla gola nelle donne è un mal di gola costante, anche se è probabile che si sviluppino frequenti tosse e catarro sanguinolento. Potrebbe anche essere difficile parlare, deglutire o persino respirare, a seconda dello stadio del cancro. Altri segni di malattia possono non sembrare affatto collegati alla gola, ma possono includere mal d'orecchi, ulcere alla bocca e, negli ultimi stadi del cancro, sfregio del viso. Un mal di gola che non sembra mai scomparire è spesso uno dei primi segni di cancro alla gola. Le donne possono distinguere tra un mal di gola causato da cancro e uno da un raffreddore tentando di trattarlo con i tipici rimedi mal di gola. Se il dolore persiste e non ci sono altri sintomi che potrebbero indicare un raffreddore, mal di gola o altre condizioni comuni, la donna dovrebbe vedere un medico. Questo è particolarmente vero se il mal di gola è accompagnato da una tosse cronica e una flema sanguinolenta. Perché la gola è usata per parlare e mangiare, ma può diventare difficile a causa del cancro alla gola. Le donne con cancro alla gola in stadio avanzato potrebbero non essere in grado di parlare affatto, mentre coloro che possono notare che la loro voce è improvvisamente rauca per la maggior parte del tempo. Difficoltà a deglutire cibo o bevande può portare a una graduale perdita di peso. Quelli negli ultimi stadi del cancro possono anche avere difficoltà a respirare, perché il tumore può ostruire le vie respiratorie. Alcuni segni comuni di cancro alla gola nelle donne non sembrano avere molto a che fare con la gola, il che può rendere difficile per molte persone pensare al cancro alla gola come una possibilità. Ad esempio, alcune donne con questa condizione sperimentano mal d'orecchi costanti a causa della pressione del tumore sui nervi nella zona. Una volta che il tumore si diffonde dalla gola alle aree vicine, le caratteristiche del viso possono cambiare, perché i linfonodi e gli occhi diventano spesso gonfiati. Anche il naso, l'ulcera della bocca e il dolore al collo sono spesso segni di cancro alla gola all'intera faccia e solitamente colpita nelle ultime fasi.